Questa vittoria, soprattutto dopo i risultati del pomeriggio, che ci consentono di rimanere in zona playoff e sperare di fare qualcosa di più. Credo forse che matematicamente oggi siamo salvi, quindi consegniamo un'altra salvetta, l'ecco qui e lì, la prima volta non si scorda mai. Samuel si ha portato entusiasmo. Samuels ha portato entusiasmo, ha portato punti, ha portato rimbalzi. Io credo che il vero Samuels lo vedremo tra due settimane e magari contro Milano consegnare un'altra partita alla squadra. I playoff possibili? Eh? I playoff possibili. I playoff siamo lì, dobbiamo lottare, abbiamo altre sei finali. Una di queste non sarà facile contro Milano, contro le altre ce la giocheremo tutta. E adesso forza a Sassari, perché Sassari è una squadra forte, una squadra con la quale ci appoppiamo bene, però all'andata abbiamo fatto la nostra migliore. E' entusiasmo una marcia in più. Eh? L'entusiasmo è una marcia in più. Io dico che con questo pubblico, quando ti fa in questo modo, in questa arena non si vince. Forza brindisi, buon basket. Servirà per lei questo risposto? Deve servire, deve servire perché non ci possono abbandonare. Noi vogliamo rimanere nel basket che conta, nel basket che fa spettacolo, che fa aggregazione, che porta la gente la domenica al palazzo con entusiasmo e che fa soprattutto, credetemi una cosa, in questo momento, orgogliosi di essere brindisini. E l'orgoglio di questa città, di questa regione non perdiamola, aiutateci e porteremo la squadra sempre più in alto. Grazie a tutti.